Torniamo adesso sui mercati, siamo in compagnia del nostro primo ospite Emanuele Rigo, New Traders Lab. Buongiorno Emanuele, ben ritrovato. Buongiorno Alexandra, spero si senta bene. Ti sentiamo perfettamente. Allora, vorrei partire, appunto abbiamo fatto questo riassunto di come sono andati i mercati in questo primo trimestre, bisogna dire che è partita una rotazione di mercato che poi è continuata per un bel po' di tempo, che cosa prevedi tu per il secondo trimestre dell'anno? Sostanzialmente una prosecuzione della fase di assestamento dei mercati, un altro po' di rotazione sicuramente, una prosecuzione della fase attuale che non vede dei risultati, almeno sull'azionario, eclatanti, confrontati con quelli dei trimestri precedenti, però sicuramente una certa stabilità. Non è ancora il momento di una inversione o di una correzione significativa, quantomeno che riporti le quotazioni dell'azionario su dei livelli più adeguati e verso le valutazioni attuali di mercato, proprio perché da questo punto di vista le banche centrali hanno sostanzialmente detto, senza neanche troppi giri di parole, che sono pronti a fronteggiare i rialzi dei tassi, soprattutto la BCE sul fronte europeo e l'abbiamo visto anche nella divergenza che ha visto vincere l'Europa nei confronti con gli Stati Uniti in queste ultime settimane, ma anche dall'altro lato dell'Atlantico molto probabilmente vedremo una situazione di questo tipo. Tra l'altro in Europa abbiamo visto i dati dell'inflazione che sono usciti non così tonici come ci si aspettava e questa è chiaramente una buona notizia per le borse, dall'altro lato dell'Atlantico invece c'è un atteggiamento ancora abbastanza aggressivo da parte della Fed che vede non pochi rischi sulla parte downside della ripresa economica, per cui continuerà a mantenere una certa disponibilità a mantenere l'accomodamento monetario e anche questo chiaramente è una situazione positiva per le borse. Questo allo stato attuale, il prossimo trimestre molto probabilmente non vedrà variazioni significative rispetto a questo outlook, però è chiaro che almeno più di un operatore comincia a essere nervoso sul mercato. Sì, senza dubbio, però abbiamo visto i mercati comunque riuscire a chiudere ben sopra la parità, anzi hanno registrato dei guadagni piuttosto significativi, intanto vediamo velocemente il dato del lavoro di nuovo, queste sono le richieste di sussidi di disoccupazione a 719 mila rispetto ai 658 mila della scorsa volta, insieme a quelle continue che sono un po' più alti, sono 3.794 mila rispetto ai 3.840 mila della scorsa volta. Come bisogna interpretare questo dato a tuo avviso? Non si può dire comunque che è troppo diverso rispetto a ciò che abbiamo visto settimana scorsa? Il dato è sicuramente positivo, ma non così eclatante da portare ad un'inversione di tendenza sulla politica monetaria, non è così eclatante da generare un ripensamento dell'attuale asset della Fed e come dimostrano anche i dati, quelli CIE ovviamente non hanno, non si vede ancora per il momento questa fiammata di inflazione che aveva preoccupato gli operatori nelle ultime settimane, per cui sono dati che sicuramente sono incoraggianti, vabbè sale un attimino le nuove richieste di sussidi, ma scendono in maniera abbastanza significativa quelle delle richieste continuate di sussidi. Importante invece, secondo me, è un altro dato, che è quello che è uscito poco tempo prima, i nuovi posti di lavoro, chiamiamoli così, Italia, i posti di lavoro annunciati che crollano e questa è chiaramente un'ottima notizia per l'economia americana e poi ovviamente è una buona notizia anche per l'economia del resto del mondo, perché chiaramente le economie moderne sono molto interrelate, per cui se una va bene, tendenzialmente poi trascina anche in una specie di dinamica globale anche le altre e speriamo che sia anche un caso di studio per quello che succederà in Europa in una seconda fase dopo la pandemia con una ripresa significativa dell'economia. Abbiamo visto nel frattempo anche il piano Biden che naturalmente deve essere approvato, quindi è ancora a mio avviso abbastanza presto cercare a capire quali potrebbero essere le ripercussioni sui mercati finanziari, però a livello di pressioni inflazionistiche potrebbero esserci al rialzo o sarebbero di nuovo transigenti? Onestamente qui la situazione continua ad essere abbastanza interlocutoria, per cui vale il discorso sostanziale che abbiamo fatto prima, cioè sul tema del nuovo piano di infrastrutture negli Stati Uniti, ancora per il momento non si vede il concretizzarsi di una proposta di legge che è poi quella che deve essere approvata dal Parlamento e come abbiamo visto con lo stimulus package, l'ultimo pacchetto da 1900 miliardi, è una discussione che si può potrare anche in maniera molto prolungata e significativa, per cui qua sono due elementi secondo me da valutare, quello temporale, molto probabilmente questo pacchetto non lo vediamo prima dell'autunno e poi quello dell'azione e qui chiaramente possiamo soltanto speculare su quello che potrà esserci incluso, sicuramente sappiamo che c'è l'intenzione da parte dell'amministrazione Biden di agire su due fronti principali, uno infrastrutturale e uno per il sostegno alle famiglie, mal contati sono circa 2250 miliardi per il primo pacchetto che prevede tra l'altro soprattutto infrastrutture di natura stradale e infrastrutturale, rete elettrica, efficientamento chiaramente anche della rete idrica che è un grosso problema soprattutto in alcune zone del paese e poi quello che è stato definito per 2000 miliardi l'American Families Plan che verrà presentato se non sbaglio questo mese e che dovrebbe andare ad agire un po' più in maniera significativa su quello che saranno la vita diciamo delle famiglie, lui l'ha definito un ripartire dal middle come come volesse indicare la middle class, la classe media americana, però sappiamo benissimo come abbiamo visto negli ultimi e nei tempi recenti che il diavolo sta nei dettagli per cui prima vorrei vedere il piano. Una cosa che chiaramente farà scalpore e ha già provocato non direi nemmeno malumori, proprio rivolte di pancia dei repubblicani ma non soltanto è la proposta per finanziare tutto questo piano che è l'aumento della corporate tax, la tassa sulle aziende dal 21 al 28 per cento ed è chiaramente molto significativa soprattutto in un paese in cui dove si fa in sostanza dello stato minimo una bandiera importante. Assolutamente sì, questo sarà tra l'altro il punto principale per essere chiari e anche perché potrebbe avere un impatto sui big tech in particolare, poi vorrebbero introdurre anche la cosiddetta wealth tax che è una proposta dall'estrema sinistra. Sicuramente avremo modo di parlare di questo Emanuele, però siccome oggi è il primo di aprile e cioè è l'inizio di un nuovo mese, non solo, anche di un nuovo trimestre, vogliamo capire quali saranno i market mover nei prossimi tre mesi se lasciamo da parte ovviamente l'andamento del coronavirus, perché poi bisogna dirlo chiaramente negli Stati Uniti la campagna vaccinale sta andando abbastanza bene, stanno vaccinando circa 2 milioni e mezzo di persone al giorno, quindi questo ha una descrizione naturalmente molto positiva, ma quali saranno gli altri market mover da ora in avanti? Beh, al di là della campagna vaccinale, secondo me, sì, possiamo dirlo perché sembra abbastanza ben pianificata la sua progressione negli Stati Uniti, un po' meno in Europa, però sarà comunque centrale. L'inflazione, le dinamiche inflazionistiche saranno da tenere sotto grandissima osservazione e chiaramente le riunioni delle banche centrali. Il resto difficilmente avrà un impatto significativo sull'andamento dei mercati in generale, proprio perché sono comunque tutti i dati che hanno un impatto, sì, sull'andamento globale che vengono sostanzialmente sintetizzati sia nell'azione delle banche centrali che si basa chiaramente sull'inflazione che è l'indicatore cardine. Quindi questi gli appuntamenti da tenere in considerazione, possiamo anticipare che molto probabilmente in Asia ci sarà una dinamica un po' più veloce di ripresa dell'economia, così come negli Stati Uniti. In Europa molto probabilmente rimarremo un attimino alla finestra, per cui diciamo che c'è una fase che si sta vedendo e si è vista anche nell'ultima settimana, come dicevamo prima, di transizione da fuori dagli Stati Uniti e dentro all'Europa. Come ultimo punto che volevo sottolineare, chiaramente quello legato all'andamento poi dell'immunizzazione, delle situazioni legate ai vaccini e le approvazioni dei nuovi vaccini e potrebbero dare soprattutto in Europa un'ulteriore spinta a quelle che sono dinamiche prospettiche degli operatori. Quindi questi sono gli eventi principali che vorrei andare a guardare. Ultimo, che è abbastanza importante, è anche l'andamento del comparto energetico, lo menzionavi tu, il petrolio è stato uno dei migliori performer di questo trimestre ed è quello che ha provocato soprattutto nelle scorse settimane, con quei rialzi abbastanza marcati, un'impennata, se la possiamo chiamare così, dei dati sull'inflazione, forse anche falsando un pochettino quei dati, per cui anche le commodities, le materie prime e soprattutto quelle energetiche sono da tenere sotto controllo. Assolutamente sì, poi ricordiamo oggi, bisogna vedere, speriamo che vedremo la decisione dell'OPEC per quanto riguarda i tagli della produzione, se continueranno, se aumenteranno, se diminuiranno, perché naturalmente tutti i partecipanti hanno degli interessi molto molto diversi. Intanto non lo so se la regia ci può far vedere di nuovo il grafico della performance dei mercati europei, dove stiamo vedendo che a Piazza Affari, ovvero il Fuzimib, si sta confermando la regina dei mercati europei in rialzo dell'11%, sei sorpreso da questo recupero Emanuele? Guarda, ne stavo parlando proprio ieri con un collega che lavora in un importante fondo di investimenti a Londra e diceva, ma io non riesco a capire come mai il Fuzimib sia così forte, nonostante la situazione italiana non sia delle migliori. E io dicevo, da un'interpretazione che sicuramente è parziale, ma con tutta la liquidità che c'è sul mercato, diciamo all'interno del panorama globale c'è una massa di liquidità enorme con l'unico classe di asset che produce rendimento che è l'azionario, si va in buona sostanza in maniera molto trasversale su tutto. Se poi ci uniamo anche il fatto che sull'indice italiano le banche che sono piene di titoli di Stato italiano, le ho definite quasi il vero prestatore di ultima istanza per l'Italia con lo spread in diminuzione, le prospettive per una diminuzione ulteriore dello spread nell'era Draghi, ecco che tutto in buona sostanza torna e vede un miglioramento abbastanza significativo del Fuzzi Mib, che poi questo sia indicativo di una vera valorizzazione che il mercato dà del Fuzzi Mib, quindi delle aziende che ne fanno parte a quei livelli o con quel tipo di progressione rialzista in questo periodo, non è assolutamente quello che sto dicendo, è tutto un altro discorso legato a dinamiche che sono quasi tangenti alla situazione italiana in generale, non proprie insomma. Ecco, ultimissima domanda, anche questo un coming up perché bisogna vedere, bisogna prevedere l'ultimissimo ovviamente punto che vorrei toccare è l'indice del dollaro che è molto stabile, è sopra quota 93 e l'euro dollaro che invece si è leggermente indebolito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, forse è più corretto dire. Dove vedi l'indice del dollaro nella seconda metà dell'anno e non solo, anche che cosa segue per il cambio euro dollaro? Dato che le oscillazioni sul valutario sono abbastanza ampie, io ti do una visione di fondo, il dollaro adesso ha visto una cavalcata importante nelle ultime settimane che l'ha portato a quei livelli, abbiamo visto chiaramente l'euro dollaro scendere e abbiamo visto anche un po' soffrire le valute emergenti ed altre valute legate al comparto, diciamo, prezzato in dollari in buona sostanza, quindi tutte quelle valute che hanno un'esposizione alle commodities, cosiddette, impropriamente dette commodities currencies, però insomma ci siamo capiti. Per quanto riguarda la fase, diciamo, futura, quindi del prossimo trimestre, io il dollaro me lo vedo in una prosecuzione della fase di rialzo, quindi un po' di ulteriore rafforzamento, ma non così eclatante, perché secondo me ci stiamo stabilizzando sulla forza del biglietto verde, ma secondo me c'è ancora un po' di strada da fare, per cui, diciamo, se dovessimo vederci tra tre mesi, l'euro dollaro me lo vedo poco sotto i livelli attuali, 1,16 circa come prezzo medio. Ah, quindi non sei un dollar bull? Beh, da questi livelli solo leggermente. Ok, grazie mille Emanuele Rigo, New Trader Lab, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Alexandra.